Il campo di girasoli Accendi una candela, ponila nella posizione che ritieni più piacevole alla tua vista, così illuminando solo il campo di girasoli. Siediti comodo di fronte al campo di girasoli. Guardalo, guardalo, sino a che vedrai la luce gialla calda dei girasoli emergere dall'oscurità che ti circonda. Concentrati sulla luce gialla più intensa che ti colpisce agli occhi e seguila, sino ad arrivare al girasole che splende più degli altri. Concentrati sul tuo girasole, sino a che la tua mente vedrà solo il tuo girasole emergere dall'oscurità, così gialla e intensa la sua luce che ti porterà a sentire il suo confortante calore. Chiudi gli occhi e lascia che sia la tua mente a guardare il campo di girasoli. Lo vedi? Entra. Sei piccolo come un'ape. Svolazza tra i girasoli, così grandi, così gialli, uno più di tutti, il tuo girasole. Eccolo. La sua maestosa bellezza ti scalda il cuore sino quasi commuoverti. Adagiti nel centro della sua massima luminosità e ascolta. Ascolta quello che i girasoli hanno da dirti. Ascolta. Noi girasoli siamo da sempre simbolo di solità, vivacità e allegria. Proprio per questo, chi ci ha regalato a te vuole esprimere un sentimento di gioia. Vuole fare un omaggio a te rappresentandoti appunto come una persona solare, positiva e piena di vita. Noi girasoli simboleggiamo il sole e quindi la luce e la vita.